Ciao, sono Sara. Tu chi sei? Mattia. Cosa frequentiamo? Il corso di? Reddy. E cosa fai? Giochi? Tanto. Tanto. Si diverte tantissimo. È il secondo anno che frequentiamo il cliente di sportivo. Quello che cercavamo era il rispetto delle regole e giocare tutti insieme, quindi avere nuovi amici. E' quello che abbiamo trovato in tutto e noi ci divertiamo un sacco, vero? Sì. E lanciamo la palla? La palla. La palla. Dilla. Reddy. Podcast. Bravo.